benvenuti al mio canale ragazzi che partitone che ha fatto il como ieri dopo la tempesta è arrivati i primi tre punti ragazzi i primi tre punti dal como non ci posso credere contro la più forte di serie a in tutto l'arco degli anni la più forte tira fuori tre punti bellissima partita comunque era stata rinviata ma non ce ne frega niente i tre punti arrivano al sinigallia i tre punti li porta a como al sinigallia ecco scusate al guanis di bergamo comunque vi porta via i tre punti iscrivetevi al canale attivate la campanellina si apre una tendina su tutte andate a cliccare così almeno potete vedere questo tipo di reaction mie e di tante altre live che farò durante l'anno l'anno ma andiamo comunque a catalogare che partitone che partitone che partitone mi dispiace all'undicesimo minuto roberto sergio si è fatto ammonire ma fa niente è un dettaglio a centrocampo ma perché ma perché poi dopo subisce il gol con zappacosta al diciottesimo minuto idem di nuovo non ci sta non ci credo moreno si fa beccare il cartellino giallo un fallaccio qua e là ma ci può stare non descrivo ragazzi i falli come sono fatti perché non me le ricorderei manco uno dico solo che è un fallo un'aria e un robe varie o a centrocampo e amen arriva il gol del pareggio meno male al 46esimo strafezza su assist di roberto carlos bella partita ragazzi bellissima sostituzione quasi all'inizio del secondo tempo breccianini per pazelic e qua incomincia mi dispiace per cola sinac cola sinac si dice così si fa l'autogol sul tiro di caule non me lo ricordo chi è che ha tirato vabbè non me lo ricordo entra anche quadrato al 55esimo per zappacosta lucman per retequi retequi non ha fatto proprio niente fino al 55esimo fino alla sostituzione poteva mettere dentro un pallone in porta no arriva il primo gol di fadera su assist di paz bellissimo gol bello ma bello bello entra anche samacis per decatteler massitelli per entra per federa dopo aver segnato al 58esimo esce entra blaubic v quello giovane per ederson fa un paio di cambi ancora il como per gabrieldoni per culturone non c'è belotti non c'è belotti non c'è belotti per culturone goldanica per perrone deron all'ottantatreesimo si fa ammonire ragazzi si fa ammonire poi entra anche engelgard per strafezza sala per martin pac qui hanno sbagliato la procedura mi da lucman come rigore al 99esimo rigore ha segnato no penso proprio di no perché i tre gol li ho già segnati ha segnato strafezza colasic e federa arriva anche il rigore al 93 per lucman tempo supplementare proprio andato di quelli enormi enormi 3 a 2 ragazzi è stata una bella partita io dico bel risultato anche per l'atalanta nonostante tutto in vista anche per la champions di martedì prossimo sabato 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 andrà a giocare a bologna l'atalanta il como riceve esattamente dove sai como a in casa a verona no in casa in casa sua contro il verona un bel risultatissimo ragazzi un bel risultato ci può stare ci può stare io dico che il como nonostante tutto ho letto i pro e i contro del como i primi tre punti nonostante tutto aveva aspetta vediamo la classifica il como balza a cinque punti insieme a parma genoa e lecce per il momento è automaticamente salvato invece l'atalanta non approda perché sei più nove potrebbero stare lì insieme alle grandi tipo juventus empoli o madonna l'empoli che grande squadra empoli inter e milan insieme lì a quelle squadre lì napoli udinese 10 punti in testa alla quinta giornata abbiamo ancora il torino i cugini toro i cugini torino ma prima o poi si fermeranno ma credo che saranno anche una di quelle di fermata stop alt non ditemi la vostra ragazzi eh attivate la campanellina scrivete anche nei commenti di cosa ne pensate delle mie reaction e niente un po di like se voglio arrivare a 100 per ogni video ci sta o cominciamo con i 50 perché vedo che ai 100 non ci siete ancora arrivati mh tarda un po la la vostra click è tutto gratis è un canale gratuito non si paga niente un dito tac e funziona il like se non ti piace allora vuol dire che non non interessa niente gli argomenti degli highlights fatti da un una persona semplice come me andiamo avanti e niente che devo dire devo solo aspettare qualche mezzo minuto eh dirò tutta la formazione cagliari e empoli verona torino cagliari e empoli 0 a 2 empoli ha vinto torino ha vinto il venezia ha vinto e juventus eh bologna ha fatto 0 a 0 il palma pareggiato la florentina ha vinto il bologna ha vinto la roma ha vinto il milan ha vinto e il como ha vinto ragazzi marcatori ah è vero i marcatori che così almeno è turam a 4 retecchi a 4 e mosquera a 3 e castellanos a 3 pulisic a 3 e tauin a 3 e basta gli altri ascorrendo niente delle belle cose stasera c'è esattamente la la coppa italia io lo dovevo giocare ieri ma c'era questa bellissima partita strepitosa di atalanta como e io qua vi saluto ragazzi eh iscrivetevi al canale attivate la campanellina ci vediamo alle 4 alle 16 esattamente 4 non mi ricordo più come si scrive ah no la regina margherita mi sto dimenticando tutto mi sto dimenticando tutto assolutamente tutto di tutto ragazzo simpatico ragazzo sincero dolce aromatico e mettete tutto quello che volete si scherza e si ride ciao ragazzi raccordatevi iscrivetevi al canale attivate la campanellina su tutte ciao ragazzi è importante per me e per voi ciao ciao non mi ricordo più dove si mette l'acqua grazie a tutti